Il sindaco si dichiara custode del bipolarismo, insiste sulla necessità di cambiare la legge elettorale e indica la via. Deve avere tre caratteristiche, spiega. Alla fine del voto si deve sapere chi ha vinto, chi ha vinto deve avere numeri in Parlamento e quello che governa deve essere per cinque anni responsabile. La legge elettorale che funziona è quella dei sindaci. Nessun riferimento a Berlusconi. Non si parla di lui perché si parla di futuro, attacca. E quando mette tra le priorità la riforma della giustizia, il sindaco di Firenze cita un altro Silvio, Scaglia, assolto dopo una lunga carcerazione preventiva, istituto da cambiare per il rottamatore. Il sindaco cavalca le riforme con Tony Anticasta. Superamento del bicameralismo perfetto, Camera delle Autonomie, al posto del Senato, abolizione delle province, titolo quinto della Costituzione da riscrivere. Marenzi, lanciato verso le primarie per la segreteria del PD, scalda i suoi, soprattutto parlando della sinistra e del partito da ridisegnare radicalmente, dalle logiche interne ai tabù sul lavoro, sindacati, Europa, con quella che battezza come rivoluzione della semplicità. Replica a chi lo critica per l'assenza dei simboli del Partito Democratico, la Leopolda. I problemi sono i voti, non le bandierine. Voglio allargare i consensi. Le prossime elezioni, continua il sindaco di Firenze, le vinciamo se andiamo a recuperare gli 8 milioni che hanno votato Grillo e chi non ne può più del PDL, andando a prenderli con le nostre idee. Renzi rivendica l'importanza di una leadership forte, non è una parolaccia come pensa certa sinistra in calza, è mettersi in gioco personalmente sapendo di non essere indispensabili.